bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi la nostra dose di news di fortnite non poteva mancare purtroppo non è facile riuscire a darvi notizie fresche ogni giorno perché non ci sono aggiornamenti non ci sono modifiche nei file di gioco ma lo xyuda qualcosa trova sempre nel video di oggi infatti parleremo di una bella news anzi delle piccole news relative alla patch 14.30 in arrivo questa settimana vedremo anche le ricompense per i prossimi fncs quindi i prossimi eventi compresa la finale e parlerò anche di qualche leaks riguardante la season prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è una cosa che vi voglio ricordare essi ragazzi parlo dell'evento la marama praticamente il crossover che c'è stato in questi 12 barra 14 giorni tra rocket league e fortnite come sapete fortnite ha acquistato rocket league e l'ha messo in prova in download gratuito per tutti per sempre quindi non c'è un periodo dove dovevate scaricare rocket league rimarrà sempre nello store di epi games gratis ma oggi è l'ultimo giorno per completare tutte le sfide ed ottenere delle ricompense su fortnite e su rocket league alcune veramente molto belle la base musicale il backpack della della macchina mi sfugge il nome mentre su rocket league sblocchiamo proprio il pulmino di fortnite e tante altre cose quindi attenzione se non le avete ancora fatte pochissime ore disponibili per portarle a termine e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché volevo dirvi forse una cosa che non vi è ancora arrivata ma voi lo sapete che ieri se non ricordo male nelle prime ore del pomeriggio se andate nella nella sezione di fortnite dove accedete per giocare adesso io lo faccio talmente poche volte che non mi ricordo dove ci sono le mappe scelte dalla community no avete capito il la modalità dove dovete andare c'è la nuova mappa sponsorizzata da samsung con la modalità creativa ecco ragazzi mi sfuggeva il nome la nuova mappa di samsung che supporta fino a 50 player in una mappa in creativa ed è la prima di una lunghissima serie ci auguriamo di mappe che servono ovviamente a dare un po di dinamicità ad un gioco che sennò altrimenti sarebbe focussato solamente sul mi fermo build o sparo ammazzo build o modifico ammazzo quindi tanta roba la modalità creativa io ho giocato un po' di detran poi ho fatto qualcosina ma senza mai darci troppo peso questo invece secondo me vale la pena provarla 50 giocatori nuova mappa sponsorizzata da samsung dategli un'occhiata andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come sapete o se non lo sapete ve lo dico io ieri è finito il comic un di new york ovviamente non c'è stato fisicamente l'evento è stato svolto tutto online e se non ricordo male dovrebbe succedere una cosa analoga anche per il games week di quest'anno che dovrebbe venire trasmesso in diretta su twitch quindi con eventi partecipazioni collaborazioni esclusive e tanta roba però per chi non lo sapesse dovrebbe essere disponibile già anche per noi su amazon il funko pop dedicato in edizione super limitata al comic con di new york bash si chiama e come vedete avete già capito è praticamente il lama con il cornazzo qua davanti in penso che sia un pochettino più simile alla versione della ma quella dark guardandola così però se siete dei collezionisti questo non può assolutamente mancare nella vostra collezione perché non penso lo troverete per tanti giorni andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ed ecco qua i risultati dei ragazzi qualificati nelle ultime prove delle fn cs in squad ovviamente come vedete il team di cams che zii grisi 4z r grisi nate ha ottenuto scusate in trio ha ottenuto 182 punti seguiti a 174 172 170 e 175 tanta roba ma vi ricordo che per chi non partecipa alle fn cs non deve dimenticare di guardare comunque l'evento almeno per qualche minuto su twitch o sul canale ufficiale di fortnite che ha sempre i drop abilitati o guardando magari degli streamer o dei giocatori che ci stanno in quel momento partecipando questo vi permetterà di ottenere le ricompense di queste fn cs lo spray l'adesivo e per la prima volta come potete vedere un loading screen quindi una schermata di caricamento che io adoro tantissimo anche perché sarà rara tanto quanto quella di marshmallow e chi ha giocato a fortnite quando uscì per la prima volta marshmallow ricorderà senz'altro che a causa dei problemi che successero per l'enorme numero di giocatori presenti in quel momento durante il concerto molti non riuscirono a vederlo e quindi epic games regalò a tutti i partecipanti la schermata di marshmallow che non uscì mai e quindi è attualmente la loading screen più raro quindi tanta roba anche per questo ma lo otterrete solo guardando la finale quindi si parla di fine mese ve lo ridirò non vi preoccupate andiamo a parlare del prossimo argomento di oggi perché per quanto riguarda la patch 14.30 sono uscite delle nuove informazioni per quello che riguarda i bug fix queste sono informazioni ufficiali come dire confermate e ci auguriamo in realtà che vengano anche messe in pratica perché è la terza volta che leggo che devono fixare il bug del placing a map marker cancels movements cosa vuol dire lo succede anche a voi sicuramente a me succede nella prima partita poi va a posto da solo cioè se io sto andando sto camminando apro la mappa per mettere il ping mi si blocca il personaggio questa cosa non è assolutamente accettabile e dalla patch 14.10 che c'è la community che glielo dice io so che epic games sarà strapiena fino qua di lavoro da fare ma porco miseria mettilo a posto questo bug sistemeranno anche il problema purtroppo della rissa squadra come vedete sotto inventory shuffling after respawning in team rumble quindi ogni volta che voi raccogliete le armi in rissa squadra ok ve le sistemate e poi vi uccidono purtroppo allo spawn le armi vengono tutte mischiate quindi io vi consiglio finché non fixano di una volta che avete il vostro loot droppatelo tutto e prendete in ordine le armi come le vorreste nell'inventario questo vi permetterà di averle sempre in quella posizione anche se respawnate è una cagata però funziona io lo uso e va alla grande e poi ci sono anche dei fix su salva il mondo e su mobile che purtroppo ancora il problema della barra dei punti esperienza che non è corretta insomma ragazzi le notizie sono quelle che sono non è facile ma noi ce la facciamo speriamo questa settimana di vedere finalmente l'aggiornamento 14.30 io vi ringrazio tanto per aver guardato questo video news mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e mi trovate alle 8 in live su twitch ciao